Ecco come sta oggi Via Verdi a Gubbio, nella zona del centro accoglienza Aldomoro, erba alta aiutata dalla tanta pioggia caduta in questa estate, anomala ed il mancato intervento per la falciatura. Così i reserenti hanno pensato di lanciare la denuncia tramite le pagine Facebook, ma da allora ancora niente. Tanta polvere, la paura di troppi animali a nascondersi anche accanto ai secchi dell'immondizia che traboccano di sporcizia e l'esasperazione di sentirsi una zona di serie B. Intanto continua l'attività del Costituendo Comitato Centro Ramazze, un comitato di volontari che vuol prendersi cura della città di Gubbio. Per ora le attenzioni sono concentrate sul centro storico, ma la speranza è quella di solleticare il senso civico e di appartenenza di tutti, promuovendo intervento in ogni angolo del territorio. Già in 50 si sono ritrovati per la pulizia dei tombini. Domenica 27 luglio è prevista una nuova mattinata di lavoro, con la speranza che altri cittadini vogliano aiutare la città ad accogliere degnamente il turista. Il parcheggio del seminario è uno dei primi scorci che il turista vede arrivando in città, così domenica dalle 8.30 si andrà a pulirlo. Sperando di essere numerosi, il comitato interverrà diviso in squadre anche presso la porta degli ortacci, anch'essa abbandonata a se stessa, ma altrettanto biglietto da visita per il visitatore. L'appuntamento è presso la piazza del quartiere di San Martino alle 8.30 per poi partire armati ancora di guanti e giacchetti catarifrangenti. Il pranzo è previsto al termine del lavoro, cucinato a San Martino da alcuni dei volontari. Il comitato spera di vedere in strada da oggi e nel futuro sempre più cittadini che vogliono dimostrare l'attaccamento alla propria città che subisce la difficoltà economica del taglio dei fondi dal governo centrale ai comuni.